migliori di quelli con meno numeri per quelli che pensano che il migliore sia quello con più numeri e inferiori a quelli con più numeri dai state zitti non capite un cazzo visto le storie le storie di del mitico manuxo che non sa più no le mie storie che ho messo che cazzo ho messo alle storie se fare live manuxo le sab scadono purtroppo non ci si può fare nulla lo so che non si è abituato ma le sab regalate scadono la gente non rinnova è normale che cazzo vuol dire le sab che regalano un per cento rinnova forse lo zero punto qualcosa rinnova poi scadono tutte è normalissimo non è male anch'io in maratona 60 mila buona poi 60 mila facendone 15 mila per una asta di beneficenza scam perché chi donava poi se uno donava più di lui lui donava dava i soldi ma in cambio non aveva un cazzo non rinnova più nessuno perché è normale lascia stare che gossip per roba no ma allora ragazzi oh basta vi prego basta lo so che tipo io ogni volta che allora janna scherzi i piaventi bentornata allora dovete decidervi dovete decidervi se io rispondo a questa cosa rispondo in maniera giusta nel senso che ti spiego dario il perché poi se io ti spiego e tu mi dici eh ma io stavo scherzando perché tu non capisci lo scherzo bro ma non è uno scherzo e sai perché perché questo trattamento non ce l'avresti con me se avessi più numeri di te e che mi vedi ancora come un bambino darion perché con blur fai pippa gli fai quelle due tre gag e poi ci fai insieme ma tutti siamo scherzati amici già marco il mio mio fratello mio fratello valentina grazie sapete dove bentornata cioè dario non sono io quello ossessionato dai numeri siete voi se gli date tutto questo peso se pensate che la mia il mio futuro e il mio futuro su twitch dipenda da dalle sub dario se lo vuoi sapere non ho mai chiesto una sub le ringrazio e basta e non mando le pubblicità per invogliare la gente a fare più sub e quando ho fatto i decimila è stata solo una cosa carina per la mia community dato che loro comunque gli davano un bel valore e quindi ho deciso di come dire fare un discorsetto di ringraziamento per i decimila sub perché in italia 20 30 persone hanno fatto sto traguardo non di più nella storia proprio di twitch quindi cioè pure lì mi è perculato tra l'altro però lì mi è perculato nonostante comunque un bel traguardo e però dario te lo giuro cioè non sono così basta darmi delle sessionate io cioè non mi conoscete di base non mi conoscete cioè a me non è mai fregato un cazzo delle sub cadono sti cazzi sono il primo a saperlo se volevo fare più sub streamavo 3000 ore di più sti due mesi no è che c'è una cosa che comunque devi tener conto quando sei una persona umana si chiama salute mentale dario la mia salute mentale purtroppo tu non mi conosci non lo sai io dal 2000 da io il mio primo attacco di panico l'ho avuto nel 2009 avevo 11 anni da lì è iniziato il mio inferno poi nel 2013 mi è stata diagnosticata la depressione e sono 11 anni che io combatto cerco anche di dare un bel messaggio sulla questione della salute mentale se io ti sto dicendo che il mio futuro su twitch non dipende da delle sub ma dalla mia condizione mentale perché ci devi scherzare sopra non è per malosità è comunque che poi ci impegniamo a fare tutte le campagne sulla salute mentale a dare i bei messaggi e poi non si può rinunciare a una gag per buttare merda su un collega solamente perché devi fare il simpatico davanti alla tua community a discapito di uno che comunque soffre nelle sue giornate allora diciamolo preferite lo show preferite buttare la merda sugli altri preferite passare per quelli che scherzano e poi fare i superiori dicendo che scherzate e dando a me del permaloso uscendovene bene perché avete semplicemente più numeri quindi la gente vi dà ragione perché siete dei dittatori praticamente non rinunciate allo show pur di non fare cose ego riferite da megalomani perché questa qui volevi solo vedere la chat che ti faceva azz buttata nell'astropuzzo qui il manuxone dario ma sei un grande ma quanta verità dici porca miseria questi streamer che non riescono proprio a non streamare senza le sub ragazzi oh siamo degli streamer siamo degli streamer non gesù cristo non valiamo un cazzo non valiamo niente in chat c'è gente che anche se ha meno soldi magari o comunque c'è anche gente che ha più soldi c'è gente che ci caca in testa nella vita è fatta un culo così oh meno ego non valiamo un cazzo siamo degli streamer dei semplici streamer rendiamo le giornate un po più leggere alla gente non salviamo il mondo non salviamo il mondo io mi dispiace non rinuncio io ho sapete quante battute potevo fare nella mia vita quante battute potevo fare per farmi per gongolarmi in chat per farmi dire dalla chat ma quanto sei simpatico che ha insultato quello no lo faccio solo con chi conosco perché so che non se la prende dario non mi conosce fuori dalle stream non che io ora me la sia presa però ci metti un attimo che cazzo se in pubblico e se dice una roba del genere va contro di me va contro di me e mi dispiace perché in queste situazioni ce ne esco sempre male io dopo questo discorso se verrà rifributato ne uscirò sempre male io perché perché sono quello più odiato sono quello più odiato sono quello con meno storico quello che ha meno lore per cui farsi dire no lui è intoccabile non è intoccabile non gli puoi dire niente esco sempre male io vabbè grazie per il premio di due bentornato perché è così rega è così non si può rinunciare a non dire una stronzata pur di apparire più simpatico alla propria gente se diciamo questo se ciò non implica il fatto che devi comunque dare della merda ad un altro cioè io l'altro giorno ho fatto una battuta dal maestro ma su fortnite telepresa mi sono sentito una merda io ho scritto su whatsapp abbiamo chiarito ci siamo visti dal vivo ci siamo abbracciati per una battuta che ho fatto in tre anni di stream con un mio amico poi tra l'altro di fortnite che ho fatto la cosa che sono andato a vedere quando moriva non pensavo gli desse così fastidio e poi ovviamente ho detto non mi immaginavo minimamente che ti dava così fastidio poi lui ha capito ovviamente perché lo sa che sono buono impossibile per uno streamer rinunciare a una gag per il pubblico di stupidi divertente invece di non lo so lasciare in pace qualcun altro impossibile perché perché diciamo questa cosa da ragazzo simpatico della classe che deve fare comunque l'esuberante è più importante dei valori umani su twitch mi dispiace raga è così è così mi dispiace dirlo ma sta roba delle sub delle cose vi ha tolto completamente una parte umana e io ve l'ho sempre detto ragazzi io magari porco dio magari magari i miei problemi il giorno consistessero nel oddio non ho più le sub magari pensassi a queste cose così stupide guarda ti giuro sarei più felice nella mia vita sarei molto più felice dicevo che volevo quittare dicevo che non avevo più più le forze mentali e non sapevo se continuare anche quando avevo 13.000 sub perché quando si parla di me si parla sempre di un coglione di un ritardato di uno permaloso di uno che non gli si può dire niente quando però ogni volta che c'è da parlare di qualcuno si parla di me mi dispiace raga cioè mi dispiace non me la collo più basta mi sono rotto il cazzo perché so tre anni che mi pio la merda e gente che fa lo schifo vero non si prende adesso fate pippa con loro e che cazzo io sono il bersaglio facile e una volta la copia del blur e una volta il cane una volta è quell'altro dopo un po ti fai due palle così non è questione di permalosità c'ho le palle che mi stanno cadendo per terra sono gonfie raga basta basta che cazzo sono una persona oh io non vi rompo così il cazzo e non è piangere fare il bambino che non sa scherzare ci sto gli scherzi ma se mi devo sentire di dire uno che voglio quittare perché non c'ho sab e da quest'immagine di me ad un pubblico mi fa schifo non è questione di permalosità e permalosità se tu mi fai la battuta a me me la prendo con te ma se la fai davanti a 30.000 persone è diverso è diverso non stai scherzando con me stai perculando me davanti a 20.000 persone della tua live è diverso non è essere permalosi lo stai facendo pubblicamente quando avevo 13.000 sub li facevo i stream i discorsi raga non so se è continuo perché sto male sto male nelle mie giornate sto male sto male sto male e non lo dico mai in stream perché non c'è bisogno secondo me perché la stream non dovrebbe essere neanche questo qui questo questo siparietto che sta venendo ora brutto perché comunque asciuga me ne rendo conto mi dispiace però vi rendete conto che io sono sempre messo in queste situazioni porco dio però raga cioè se mi devo sentire dire queste cose da 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 in pubblico anche no anche no anche no basta mi sono rotto il cazzo che cavolo non so se continuo twitch anche per questo schifo di merda perché mi fa cacare il posto in cui stream il posto in cui lavoro la piattaforma le persone non mi piacciono non mi piacciono in realtà dario è così con tutti non dico sia giusto anzi però dario non va ascoltato lui non lo fa per i numeri ma perché fatto così piero questa è una stronzata ovvio che non lo fa per i numeri lo fa per semplicemente egomania è quello raga perché altro non c'è motivo raga ma poi lo fa con tutti allora io spara tutti ed è giusto cioè che cazzo vuol dire è sparato a quel tizio lo ha sparato spara tutti perché te la prendi che ti ha sparato bro che cazzo vuol dire lo so che quando c'è di mezzutario sembro sempre incazzato ma ovviamente non ce l'ho con lui però c'è veramente vi giuro vorrei avere questi problemi nella mia giornata e vorrei averli questi problemi di pensare alle sub e cose ma se non mi riesco ad alzare dal letto mi dici se la mia priorità è più quella o le sub ve lo giuro ve lo giuro c'è certe volte vi manca proprio un minimo di tatto un minimo di tatto voi mi direte esagerato raga probabilmente per voi esagerato ma voi non sapete come sto io 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 nelle mie giornate non sono così diciamo non so come dirvelo cioè è brutto cioè ti stanno affibbiando una roba tipo di uno che è malato di numeri e sembra triste per i numeri quando sono sempre stato diciamo me stesso cioè non me ne fotto un cazzo in un discorso per me ovviamente che uso tanto sono sicuro che se questa clip arriva a dare lui pensa che lo sto attaccando che o che me la sono presa o che non lo so vabbè in ogni modo cercherà comunque di uscirne bene ma tanto non c'è bisogno che ti impegni perché ti ripeto chi ha più numeri su twitch ha sempre ragione quindi pure io non ce l'ho con Dario ce l'ho semplicemente con questa superficialità con i quali trattate le scelte di un'altra persona perché se io dico raga non lo so se continuare a streamare perché sto veramente male sto arrivando a un punto della mia vita in cui non so manco se riesco ad avere le forze di azzarmi dal letto a toccare è brutta come roba perché devi scherzarci su dicendo che sono le sub è bruttissimo poi mi fate i discorsi la salute mentale è importante la depressione la malattia più brutta però raga cioè non mi sembra che voi venne fotta qualcosa forse sono l'unico ormai che sensibilizza su queste cose che risponde sempre ai direct dei ragazzi che mi scrivono dove mi dicono sono triste su quello e quell'altro